La roba dolce che appaga le tue voglie non è chissà dove in qualche altro spazio e tempo, è proprio qui ed ora, la terra è ricolma di paradiso. Rachel Corrie, Olimpia, 10 aprile 1979, RAF, 16 marzo 2003 Membro dell'International Solidarity Movement decide di recarsi a RAF nella striscia di Gaza durante l'antipada. Arriva dagli Stati Uniti in Palestina il 18 gennaio 2003. Nei primi giorni partecipò ad un corso di addestramento in filosofie e tecniche non violente, per cui partecipare ad azioni concrete. Trascorse molto tempo con i palestinesi del posto. Nelle sue email alla madre racconta di come aiuta il ragazzino palestinese nei compiti, della TV americana adoppiata in arabo. Si impegna in un progetto di corrispondenza tra bambini della striscia di Gaza e degli Stati Uniti. Il 16 marzo 2003 è impegnata con altri sei attivisti nell'impedire le operazioni di demolizione di due bulldozer corazzati, usati per demolire gli edifici, secondo i dimostranti, e l'esterpaie, secondo le autorità israeliane, vicino al confine tra Gaza e l'Egitto. Rachel indossava un giubbotto rosso fluorescente. Per circa due ore, il gruppo aveva cercato di ostacolare i due bulldozer. Si posizionava sulla traiettoria, gridavano i manovranti con il megafono. Quando i bulldozer avanzarono, spingono a catastro un mucchio di terra di fronte a loro. Una tecnica standard di boicottaggio da parte degli attivisti è quella di far sì che un dimostrante salga in cima al mocchio e si ponga così al di sopra del livello della lama del bulldozer, facendosi vedere chiaramente dall'operatore della macchina. Secondo i testimoni oculari, Rachel aveva seguito questa tecnica. Prima si era seduta o inginocchiata, poi si era alzata in piedi, in cima al cumulo di detriti, di fronte al bulldozer. E così è rimasta per un po', guardando l'operatore. Ad un certo punto Rachel cadde dal cumulo. Forse era scivolata e non era più riuscita a rialzarsi. Il bulldozer è avanzato e la lama l'ha colpita e l'è passata sopra. I testimoni dicono che dopo averla coperta di terra, il bulldozer abbia fatto marcia indietro e le sia così passato sopra una seconda volta. Secondo la versione ufficiale dell'esercito israeliano, l'autista della Ruspa non l'avrebbe vista a causa del suo essere scivolata fuori dalla sua visuale. Rachel aveva 23 anni.